Sono Cristina Marzola, è un'azienda artigiana che disegna, produce e vende borse e accessori femminili. L'idea che sta alla base di questo progetto è quella di creare attraverso l'accessorio degli oggetti che parlino della cultura del territorio. Sono a botteghe digitali perché credo molto nello strumento digitale per trovare dei canali di vendita che siano diretti.